L'Udinese con tre punti sarebbe in Europa per il terzo anno consecutivo. L'Inter prova a chiudere al meglio un campionato estremamente negativo. Insiste l'Udinese con All'Anne, gran pallone dentro per Pinzi in area. Pinzi! Subito il gol! 40 secondi! L'Udinese la sblocca, quarto gol in carriera di Pinzi a San Siro. Va di Natale, teso primo palla, palla prolungata! E arriva il raddoppio dell'Udinese con Domizzi. 2-0, Domizzi di testa, raddoppia. Ricky Alvarez contro Pinzi che ancora non vuole concedergli il centro del campo. Alla fine ci va comunque Ricky Alvarez, il tiro è stoppato, mischia in mezzo all'area. Juan Cesus piazza e trova il gol, il suo primo in Serie A. Non riesce a doporsi Berkic e l'Inter torna subito in partita, 2-1 Udinese. Palla di ritorno per Di Natale che va a giro! Di Natale! Un'altra perla! Di Natale! Sono 23, 3-1 per l'Udinese. Il pallone dentro, attenzione l'Inter è molto scoperta, il tocco sotto e il gol di Gabriel Silva. 4-1, l'Udinese in contropiede, segna ancora. Guarin si muove dentro, Rocchi palo, anche sfortunato all'Inter. Passa Palasio su basta, Palasio ancora dentro e arriva il gol di Rocchi. 4-2, Rocchi trova la rete. Si muove in verticale Muriel, mette il pallone Pinzi, Muriel, Nagatomo recupera. Errore ancora della difesa e Muriel fa 5! Il gol di Muriel, undicesimo gol della stagione. L'Udinese passa a San Siro, vince 5-2 per il terzo anno consecutivo. Si qualifica per l'Europa, sarà Europa League per Guidolin. Si chiude invece nel modo peggiore possibile l'annata nerissima dell'Inter.